Ciao, mi chiamo Simone Saturno, ho 22 anni e sono qui su MusicRacer per chiederti un aiuto per realizzare il mio primo lavoro discografico. Mi sono imbattuto per caso in questa piattaforma sociale e quello che mi ha colpito di più è stato il fatto che MusicRacer permette un'interazione tra chi fa musica e chi ne fruisce e questo credo sia fondamentale. L'idea di fare un disco nasce dalla necessità di voler donare qualcosa di me a chiunque abbia voglia e piacere di ascoltare quello che ho da dire. Per sviluppare quest'idea ci sono voluti due anni, nella prima fase ho lavorato alla stesura dei brani e nella seconda invece c'è stato un lavoro di squadra con il mio produttore artistico in cui abbiamo curato la preproduzione dell'album, ossia abbiamo appunto curato l'arrangiamento di ogni singolo pezzo. In parole povere cosa è successo? Che i miei brani da registrazioni fatte a casa, chitarra e voce hanno preso forma, è stata un'esperienza bella, è stato molto emozionante. A marzo dell'anno scorso, dopo una serata, mi si è avvicinato una persona e presentandosi mi ha detto, ciao, io mi chiamo Simone Pissolati, sono un film maker e tra le canzoni che hai cantato una mi ha particolarmente colpito, ti vai a fare un video? E da una parte la situazione è stata abbastanza imbarazzante perché in quel momento non ho realizzato se quella persona mi stesse prendendo in giro o cos'altro. Poi ci siamo seduti a tavolino, ho capito che non era sogno ma era realtà e dopo una settimana di lavoro lui aveva scritto già tutte le scene e quindi abbiamo realizzato questo video. la canzone si intitola è troppo tardi e sarà anche lei contenuta nell'album. Non hai alibi da vendermi stavolta colpevole è troppo tardi, è troppo tardi, per confidarsi non saprei più cosa dirti, è troppo tardi, è troppo tardi, è troppo tardi, è troppo tardi. per nascondere a me stesso, che ingenuità è la madre di innocenti sentimenti. Spero di coinvolgere più persone possibili in questo progetto, da chi mi conosce personalmente fino a chi crede che per raggiungere, per realizzare i propri sogni bisogna lottare ad ogni costo. Se volete essere parte attiva del mio progetto, potete scegliere la vostra ricompensa tra quelle indicate in questa patica. Per qualsiasi altra informazione potete seguirmi sulla mia pagina ufficiale di Facebook. Ciao! Ciao!